Per San Valentino a Bossico c'è una particolare iniziativa? Sì, un'iniziativa che sta diventando una piacevole consuetudine, organizzata dalla Proloco. C'è la possibilità di cenare e pernottare nei ristoranti e negli alberghi del paese a prezzi convenzionati e poi ci sono una serie di iniziative tra cui viene allestito un cuore. Tutti quelli che si vogliono bene possono venire a Bossico, fare una foto e poi c'è un concorso fotografico collegato a questa iniziativa. Quindi poi si può andare a visitare il sito della Proloco? Sì, tutte le informazioni più dettagliate sono reperibili sul sito della Proloco.